bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi siamo tornati sul GTA V online con Rage Game saluto sponso saluto allora ragazzi come avete già potuto notare dentro questo edificio che già molti di voi avranno riconosciuto dal panorama che vabbè appunto siamo dentro diciamo il condominio da quanto costa 500 mila vabbè da 500 mila credo eh si vabbè insomma siamo in questo e oggi andiamo a spiegarvi come come si fa ad entrare in questo posto vabbè ma sentato vederla vabbè come si fa ad entrare qua dentro ok ragazzi allora prima di tutto dovete avere una macchina alta come l'insurgent o ancora meglio appunto avere l'insurgent vabbè allora dovete avere l'insurgent e dirigervi verso di qua poi il personaggio vi cadrà e si buggerà così non va sempre al primo corpo cioè praticamente il vostro personaggio cade si valga e vi teletrasporta subito sopra vediamo se funziona no non ancora vabbè ce la faremo adesso dai ce la faremo ce la faremo ok ok no non mancate bene e ho capito dritto stai dentro perché c'è dell'acqua la no no è la pioggia dai 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 ce la possiamo fare cadi ok no cade sempre sotto deve chieder dritto insomma ragazzi deve cadere dritto il personaggio perché sennò non funziona guarda su quanto mi ricordo proprio sono famosi dov'è ignorante ok ragazzi no forse no raga forse la volta buona no che spalle Gesù aiutami Gesù portami la tua pochino ragazzi il bug ha funzionato siamo entrati nella casa allora dovete stare una cosa dovete stare una cosa vabbè allora una cosa qui dovete portare molta attenzione è non andare qua nel grigio perché anche se io tipo la giocronate vedete vanno giù cioè se voi cadete praticamente vi farà cadere per un po' e poi vi sponerà la su quel marciapiede che cazzo allora ragazzi questo qua chi è chi è questo qua fuori tanto è tuo ok ragazzi qua si può andare si che figo qua cosa come cazzo ha fatto ad entrare sto bastardo che non aveva l'insurgent ah e mi ha dato pure lui ma che se potete armi insieme a me ha buggato anche qua sotto vabbè oh ma qua ci sta ci sta radonando un bordello di gente ah beh insomma ragazzi in questo video volevo appunto farvi vedere questo semplice bug da fare con gli amici o anche da soli se volete magari per fare un po' di resistenza contro la polizia o pigliare un po' per il culo agli altri giocatori online intanto ammazzarli un po' non fargli capire insomma dove siete intanto qua si sta radonando un bordello di gente per fare si appunto infatti ragazzi anche come dice il nemico rage game appunto per fare eh punti esperienza visto che la polizia da qua dentro non ti vedrà infatti se voi gli sparate anche un solo colpo adesso vi farò vedere con la pistoletta anche io lo sparo ok vedete io gli ho sparato e loro non capiscono dove siamo però voi potete potrete tranquillamente sparare anche colpi di rpg tranquillamente potete far tutto da qua dentro veramente non c'è nessun problema allora ragazzi una cosa che ci eravamo dimenticati di farvi vedere è che ci può ah primo colpo l'ho fatto io ecco ragazzi una cosa che ci siamo dimenticati di dirvi è che si può anche a meno io non lo sapevo me l'ha detto il nemico il quale ringrazio molto anche per la partecipazione che allora tu fallo poi mi dici se ha funzionato eh se ci si butta insomma col paracadute giù di qua e poi lo si apre dove cazzo stai andando lo si apre in teoria si arriva in una stanza cioè si arriva nella casa di questo albergo quindi proviamoci l'ho aperto eh ah io t'ho visto ok ragazzi quello lì è lui bello il fumo flu devo dire vabbè raga lui dice che è là oh porca troia io ne avevo due vedi che io ci penso oh micchia no sono andato nel garage troiaccia vabbè insomma ragazzi questo qui è un piccolo bug molto simpatico che volevamo farvi vedere non la prendi tu quella macchina non fammi saltare vai facciamoci saltare a vicenza buttano in 5 veloce cioè io l'ho buttata in raffica ragazzi e dico calma con calma andiamo via 3 1 via e te ne sono esplose perché ho fatto il ragazzi ti è già suicidato poverino vabbè raga noi ci vediamo alla live di stasera tu ci sei vero in teoria c'è anche il mio amico ok perfetto e va bene che cazzo fai noi ci vediamo alla live di stasera mi raccomando dovete esserci scrivetemi sotto appunto vengo cazzo vi ammazzo proprio tutta la famiglia che avete e l'ho visto questa parte la metto ti giuro sono dove è epico va bene ci vediamo alla live di stasera lasciatemi il vostro id online qui sotto anche nei commenti di questo video oppure negli altri due che ho caricato oggi cioè l'altro perché l'altro uno era solo dei annunci diciamo di questa giornata niente per adesso è tutto noi ci vediamo stasera con la live ciao